In progress, se dovessi fissare dei capisaldi dal tuo punto di vista quali sono, a parte scongiurare l'aumento dell'IVA? Io credo che si doveva risettare tutto, io l'ho scritto qualche tempo fa proprio su Milano Finanza, io credo che una operazione di verità sarebbe stata da questo governo nato un po' per caso che ha trovato per terra il biglietto della lotteria e non l'aveva nemmeno comprato questo biglietto, era di eliminare le due misure che alla fine non hanno avuto nemmeno un grande successo e sono il reddito di cittadinanza per evidenti motivi fiscali, perché poi lo Stato prima di dare un reddito di cittadinanza a una persona che si dichiara di fatto nullatenente fa miliardi di controlli, deve avere il motorino 125, se ce l'hai 250 non ce l'hai, tanto per fare un esempio, e sulle pensioni, il vero problema è quello di creare lavoro, eliminare queste due... La forza di maggioranza del governo è il Movimento 5 Stelle, ma il PD ha qualche voce in capitolo oppure sta lì a ricasco del Movimento 5 Stelle, detto proprio senza avere un approccio ideologico, mi sembra che il Movimento 5 Stelle stia facendo lecitamente la sua battaglia e mantiene ovviamente il punto sul reddito di cittadinanza, addirittura su quota 100, non ho capito il PD e le forze invece di sinistra, che compongono la maggioranza giallorossa, che tipo di proposte hanno?